Muoveranno un giro d'affari di 18,48 milioni solamente in provincia di Arezzo i saldi estivi che partiranno sabato 6 luglio e andranno avanti per due mesi, anche se già da alcuni giorni alcuni negozi della città hanno iniziato ad avvertire i propri clienti invitandoli ai presaldi. L'acquisto medio a famiglia non andrà invece oltre 202 euro. Il dato arriva dall'ufficio studi di ConfCommercio, secondo il quale più aretini faranno acquisti a saldo rispetto al 2023 ma spenderanno meno. C'è voglia di acquistare ma più a cortezza sono cambiate le abitudini dei consumatori, commenta Paolo Mantovani, presidente Federmoda ConfCommercio Toscana. Secondo l'analisi di ConfEsercenti invece un consumatore su due è pronto ad acquistare, l'auspicio quindi è quello di veder partire i saldi estivi nel migliore dei modi. Le percentuali di sconto, spiega la direttrice Valeria Alvisi, già da sabato si assesteranno tra il 20 e il 40% con punte fino al 50% per poi salire nelle prossime settimane a seconda della tipologia merceologica. Secondo le nostre stime e previsioni ci sarà una propensione di spesa media tra i 180 e i 200 euro. I consumatori investono sempre più sui capi destagionalizzati ovvero nell'abbigliamento per tutte le stagioni, questo è dovuto soprattutto al tempo. Il picco di vendite sicuramente ci sarà a luglio avviato, non c'è più infatti la corsa all'acquisto nelle prime settimane e l'estate si prolunga quasi fino ad ottobre. I capi più gettonati infine restano t-shirt, scarpe sneakers, jeans, abiti ed accessori. La borsa invece rimane sempre l'oggetto da donna più ricercato.